ma tu sei di cinisello? si cinisello o balsamo? eh magari cinisello o balsamo? oh portiamo pure a me un po' di balsamo di cinisello che ho i capelli mi sono schiariti hai visto mai? ma c'è il balsamo in testa c'è la striscia in testa si però il balsamo se no ma serve il balsamo senti questo che scureggia che ci ha fatto ma che cazzo si è ammagnato fermate mi ha fatto niente i capelli più biondi di prima porco due mi stava a schiari pure i baffi finti è tornato è tornato è tornato mamma mia questa si è messa una ciambella ma noi di come stavo posso chiederti di dove sei te con il cappellino della giornata io sono eh non posso dirlo ma te non ce l'hai il cappellino della giornata no che è il cappellino della giornata ma questo perché si sente sempre al centro da attenzione oh ma quanti cornetti te si è mangiato te si è mangiato più cornetti di quelli che ha venuto te lo dico io a jordan ma noi di questo come stavo ancora che ci fa vedere la bandiera di israele ma ma te sei qualche cellula addormente d'arcaida ma noi di come stai oh porco due firma devo quello è il business che non lo so fa davide il boss chi è questo che c'è dato il boss da solo questo è criminale occhio ma questo è criminale questo è criminale niente niente criminali vabbè stavi dicendo di dove sei la fine cameraman showman e tutto quanto di dove c'è Novara? di Novara mortale città che schifo michi è un posto bruttissimo fida ti fegge di Roma peggio di che? di Roma perchè che c'è sanno Arasake? eh praticamente sono ma se ci abita lui ma che posto può essere? eh infatti quello è il problema mamma mia Asake ma che c'è sanno Giro? ma comunque ci sono le pazze e le ragazze belle fighe che c'hanno sempre voglia quello lo so che c'hanno gli emorroidi? ma sai in chi ci abitava? ma ora ti ce l'hanno gli uomini l'ho fatto scappare eh cristo addio qua oh comunque io ti denuncio alla telecom tremava tutto tremava faceva così eh? no samba lalla aiuto samba lalla chi? oh quello che è scappato da un gioco a te? dalla garziera Gabriele 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 forza troia il cognome lo so però non mi viene meno non mi viene meno è morto è morto sceco scegherà scegherà e cambia la webcam non sai che forse ti batte perchè non è che a rappare frate cioè non è che a siero ma perchè cioè spiegami perchè rappi ah bro qua dico che hanno donato 500 euro ma chi ha donati 500 euro ma chi ha donati 500 euro va bene la pagina ricaricatela oh va rega donate questi 500 euro va chi voleva donarsi 500 euro dai che sa che ci vuole da mangiare io vi posso donarsi se mar massimo raga si fa una tipa un tipo cos'è ah lei che c'è il coronavirus c'è pure da infettate guarda noi non siamo puliti ce l'hai guanti oh se non c'hai guanti un po' di entrare tu dico mamma mia ma andranno girato fuori a questo col cappellino di lana porco tu ma la tipa questo qua come ah è una femmina per forza se no è mafrodita o un trans qualcosa è mafrodita ce sa 50 e 50 chi si scelera dietro la maschera ah c'ha pure i guanti chi si è muto è muto ah è muto è cornuto ma come è cornuto stasera stasera ho iniziato io con i cosi dei tatuaggi e tutti quelli che vogliono fare i muti stasera com'è eh si è perché c'è molte copie non stile ma perché quando ti può sfottere qualche altro perché non ti possono sfottere pesante e quant'altro ma ultimamente sono carati ma che va non lo sa ma che voi fate ma che sai addio ho capito ma prima ti ho fatto vedere un tatuaggio e mica ti ho fatto vedere l'uccello ti spaventavi ma non è un po' che più ma bro stanno a dire che hanno donato 500 euro uno adesso mi dice che ne ha donato 5.000 ecco è entrato uno che c'ha più barba di me adesso io te devo superare te devo superare guarda guarda che babba oh te sta attento quando ti accendi le sigarette sennò più fuoco diventi in cerino proprio sta attento guarda che babba come si chiama quello di no come non si vede come la batti questa swag non si vede perché non si vede guarda è arrivato caparezza mi dispiace però io quando vedo qualcuno che vuole cercare di superare allora ho dovuto di superare un'altra volta ho creato una rima giusto per te ma che ti ma che ha creato l'unica cosa che ha creato sarà la merda che ha fatto stamattina pezzo de merda stronzo ma mamma mia quando sia aggressivo però ah raga grazie a chi ha donato 500 euro siete magnifici ma ci vado a comprare preservativi comunque sei come sei 8 come 8 testa di cazzo fammi un bocchino che è il culo dello schioppo ma questa qua è vecchia o frate no no non è vecchia l'ho sperata io ah sa che se te l'hai il cappellino c'è stessi i capelli tu ma non vedo ho già sentito mamma mia ma cosa c'è ancora l'albero di Natale in casa io c'ho un testa figurate ma c'è ancora l'albero di Natale ma che c'è oh oh questo sta senza maglietta ah no ah no è Pino Daniele quello mamma mia ma te c'è un Pino si veste sul naso ma non vedi come sai gli acervaggio ma che è la brema chic della macchina sul naso ma che ha fatto guarda qua poi poi ah lui Albania oh vattare in culamico sotto al letto da me al bagno mi sa al bagno al bagno al bagno al bagno lui è il cazzo duro ma oddio vedi qui su questo è incerbiato dal film come si chiama come si chiama quel film porca puttana ce l'ho pure ce l'ho pure io è lui è lui è quello che si infilla nel cesso è quello che si infilla nel cesso si si come cazzo si chiama bastardo la fresca che mannaggia la puttana chi è questa qua io lo conosco io lo conosco è blu è blu è blu riga il blu è blu è blu quando ragione sono io I'm here I'm here hai visto arrivato oh sei pure in inglese I'm here I'm here to help you sei venuto a dammi una mano e dammela una mano esatto mamma mia però sei bello sai questi capelli mi piacciono me è una pagata si caga tu cazzo ma te ne affanculo ma te ne affanculo qual è swag vero ma no vedi che boccione che sai mangia fuoco questo è solo swag vero a barbagianni 10 pacchi di swag tu che cazzo di pacchicciai i pacchi di merda dove ce li hai bro io sono di milano aspetta ma te li do aspetta ti faccio vedere ma che ce lo fa a vedere tranquillo no 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 facci vedere che ce lo vuole far vedere oh mannaggia la madonna addolorata quella strunza non fare vedere eh si però stati calmo io so credente qua ma che cazzo me ne frega tu ci ha messo cazzo fammi un bocchino grazie oh iii me ne vai no 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 sei offeso sei appesato sul personale che hai detto che hai detto lo sai era trasparente perché era verde non lo vedevi suo bs aveva l'effetto green screen il tipo è diventato verde no era diventato trasparente perché ah tutto il tempo si porca puttana non ci avevamo pensato quindi cosa ha fatto ci ha preso la faccia ci ha preso e portano via grazie mamma mia che attrezzo che so con questi capelli e con questo baffetto ascolta guarda io con i tatuaggi ascolta dove vuoi andare che c'hai due tatuaggi e crede di essere tatuato frate oh te devo dire però te sanno bene te questi tatuaggi perché già ce l'hai la faccia da matto te sei riempito mi piacciono però l'uccello l'unica cosa che ho vista sul cazzo che ti può vedere la gente offende per dire adesso vede te e offende me per dire io ma la fine come vuoi essere che stiamo su internet del cazzo porco dio hai capito hai capito al cielo al cielo hai capito per strada mi dicono io non sento più che è successo qua porco dio tutti stanno a parlare di te ah sai che io non ci sento più qua non hai capito a riavvio a ricarico ricarica la pace mortaggi tua oh ah ci ferma io sto bloccato eh si danni adesso lo puoi spotter tra un po' ah rica donate i 5 piotti va ah la 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 eccomi va eccomi ecci io non ci sento più mi senti ma che non ci sento più non hai capito niente bra ho finito la diretta ciao a me si sono tutte le cuffie si senti tanto l'audio ma com'è che non sento più aspetta ah frate ma non hai capito sulle cuffie mie che è successo qua che è successo è partito tutto perché queste c'ha nel sensore c'ha nel sensore aspetta mamma mia che brutto che sei mamma mia sei proprio brutto non mi può sentire vero? oh mi sente adesso mamma mia non ce la facevo qui i baffetti mi stavano a soffoca la vita sono i baffetti ci sono soltanto quello che non dicevi di noi ti abbiamo sfottuto tutto il tempo mazza che stronzi eh quando il gatto non c'è sai dopo i ballano sempre bravo hai capito bene oh sai che mi pare con queste cuffie? quelli che vanno a tagliare l'erba del comune oh eh sì quelli là sono tutti detenuti sono quasi eh eh figurate eh sì sono ma com'è che mi avete splittato al contrario a dottor Sache? eh non so io dottor Sache mamma mia neo neo sul bucio del culo te sei proprio neo sul bucio del culo ma non vedi rimani con la testa bassa non tarsali mortacci tu fermete fermate proprio ah brutto un fa no sto giocato è bello bravo ragazzi però c'è sta maglietta che è proprio su sudica se vede eh però è faticoso entrare in diretta con te è faticoso? minchia sudi ti batte il cuore il canto è tutta sgrillentata che hai detto? ti sei dato una sgrillentata al culo che ho fatto?